se non vuoi realizzare il ricotta di ricotta, bisogna il buttermilk. Ho già messo in pote più o meno di 1 litro e 200 litri e 500 litri di buttermilk, che ho ricevuto quando ho realizzato il ciò che ho fatto. Dopo, bisogna un pote di salto, un pote di vinegar e un po' di milk, per un litro e qualcosa di buttermilk, metterò un po' di milk. Se non hai il buttermilk, puoi fare lo stesso con il milk dieting. Ora, mettiamo il buttermilk sul foglio, arriviamo alla temperatura di 90C, dopo abbiamo il salto, il vinegar e, in fine, il milk, continuiamo a torner il nostro e, quando si inizia a bollire, alcuni flakes, crocs, non lo so, per la pronunciazione, si inizia a venire a venire del cheese. Vi vedrai piccoli pezzi di cheese venire. puoi prenderlo e prenderlo il ricotta, ma lo facciamo! 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 il ricotta, ma lo facciamo c'ろbe! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi con 2 litri e un po' di milchiaio abbiamo un po' di cheese, un po' di cheese e un po' di ricotta. Now I will test it, I will test plain like this because it is already full of taste. Spettacolar, you can test really the ricotta cheese. Ok guys, remember to subscribe to the channel, to leave me a like it and to watch the other video. Here you will find also the recipe to make at home goat cheese. Bye bye. Spettacolar. Will be perfect with the pasta. Pasta and ricotta cheese. Spettacolar. Mediate andudisportina.